Grazie Presidente. Oggi dovremmo essere finalmente qui per parlare di scuola, di una riforma epocale come l'ha ribattezzata il Ministro Giannini. Invece siamo qui ad attendere le ultime istruzioni governative dei lavori per sancire una farsa, per assistere impotenti allo scempio di regolamenti e di qualunque consuetudine democratica. Il tutto per permettere al Governo di apporre l'ennesima bandierina su un settore fondamentale per il Paese, un settore che da domani sarà peggiore, esattamente come il mondo del lavoro dopo il Jobs Act, come quello dell'ambiente dopo lo sblocca Italia. Nel merito del DDL io scenderò articolo per articolo durante l'esame del provvedimento. Ora si rende doveroso per me approfittare di questa occasione per spiegare a tutti che idea abbia di ascolto e dialogo con il Parlamento questo Governo, che aveva annunciato l'emanazione di un disegno di legge e non di un decreto, cito testualmente le parole del Premier Renzi, proprio perché l'esecutivo vuole dare un messaggio al Parlamento e coinvolgere le opposizioni nello spirito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica. Prima di tutto, per cominciare in bellezza, il disegno di legge è stato collegato al documento di economia e finanza, dunque emendamenti vagliati con estrema rigorosità e difficoltà di agire con interventi che prevedessero stanziamenti di risorse aggiuntive. Poi il capolavoro democratico, la ghigliottina della ghigliottina, è stato imposto a tutti i gruppi di discutere appena 5 emendamenti per ogni articolo, dunque un massimo di 90 emendamenti sugli altri 700 che il Movimento 5 Stelle aveva presentato in Commissione, nessuno ci tengo a dirlo di natura ostruzionistica. Di fronte a questo oltraggio noi abbiamo abbandonato i lavori, non potevamo assolutamente legittimare con la nostra presenza una procedura dittatoriale e una presa in giro che contemporaneamente veniva venduta da Renzi come dialogo con le opposizioni e apertura alle modifiche del DDL. In Commissione poi si è consumato un meraviglioso spettacolo circense, ad ogni articolo arrivava poche ore prima l'emendamento del relatore che lo modificava facendo decadere tutte le proposte emendative depositate dagli altri gruppi e chi è il relatore? Un membro del governo, dunque il governo emenda il testo del governo e si approva da solo le modifiche del governo, complimenti e viva la dialettica democratica e viva la partecipazione. Infine ultimo capolavoro di sadismo burocratico, il voto per l'approvazione in data certa, dunque a prescindere da cosa succede in aula, dal merito delle obiezioni, dal contenuto delle nostre proposte migliorative, mercoledì prossimo calerà il sipario su questo disegno di legge. Eccolo qui il dialogo, eccolo l'ascolto, una vergognosa mistificazione. Questo governo è riuscito nel capolavoro, ha reso un testo da cui era partito per dare spazio al Parlamento ancora più blindato di un decreto di legge in scadenza. Mai si era assistito finora a tutte queste forzature, tutte insieme, per impedire che le opposizioni potessero anche solo sfiorare il testo di un DDL. Forse però, anziché studiare di notte i più improbabili stratagemmi regolamentari per mettere il bavaglio alle opposizioni, il governo avrebbe fatto meglio a tendere un orecchio fuori da questo palazzo, a concentrarsi su cosa è accaduto in queste ultime settimane nelle piazze. Invece non l'ha fatto, si è rinchiuso nelle segrete stanze per fingere di apportare qualche tocco di maquillage a un testo impresentabile. Un minimo di umiltà e di senso del pudore avrebbe imposto a chiunque di fermarsi un secondo a riflettere sulla portata eccezionale dell'ondata di protesta e dello sciopero del 5 maggio. Invece nulla, perché questo governo è allergico al dibattito, così come lo è il suo Presidente del Consiglio che in risposta ha una mobilitazione mai vista prima, registra un monologo di 20 minuti con tanto di lavagna e gessetti. Questo disegno di legge è riuscito a compiere un miracolo, ha riportato in piazza unitariamente l'intero mondo della scuola. C'erano proprio tutti, chi verrà assunto, chi resterà fuori, chi è già da tempo docente in ruolo, chi è in pensione, genitori, studenti, tutti e tutti d'accordo per una volta, tutti d'accordo a richiedere il ritiro immediato del disegno di legge. Di fronte a questa storica mobilitazione unitaria di un intero comparto cadono una a una tutte le accuse strafottenti del governo, lo fanno solo per coltivare il loro articello, hanno paura di essere valutati. Qui si è andati ben oltre il limite consentito, ma la scuola ha gli strumenti e ha le capacità critiche per non versi dei videomessaggi preconfezionati e delle slide ingannevoli. Noi lo potremmo chiamare il disegno di legge delle menzogne, da quando lo scorso 3 settembre Renzi ha annunciato il dossier La Buona Scuola è stato tutto un susseguirsi di clamorosi annunci. Assumeremo 150.000 precari, falso, sono 100.000. Con 100.000 in missioni in ruolo realizzeremo comunque uno straordinario piano di assunzioni, falso, si stanziano soldi freschi solo per 48.000 nuovi docenti, gli altri 52.000 sono a costo zero e lo certifica la relazione illustrativa della Camera. Rafforziamo l'autonomia delle scuole, falso, si rafforza solo il potere del dirigente scolastico perché l'autonomia c'è già e basterebbe finanziare le scuole. Vinceremo la supplentite, falso, l'anno prossimo si avranno ancora tra le 50.000 e le 70.000 supplenze annuali. Potenzieremo l'offerta formativa, falso, mancano le risorse. E poi ancora, abbiamo fatto alcuni passi indietro dopo aver ascoltato le categorie, falso, restano i superpoteri al dirigente, restano fuori dal piano di assunzione i docenti della seconda fascia dei graduatori d'istituto, gli insegnanti vengono scelti dal preside e da lui devono essere riconfermati dopo tre anni, il 5 per mille continua ad andare alle singole istituzioni scolastiche allargando inevitabilmente la forbice tra scuole di serie A e scuole di serie B e potremo andare avanti all'infinito. Dopo anni e anni di precariato una cosa ce la saremmo aspettata, che questi docenti sfiniti, logorati, ottenessero finalmente una valorizzazione e un riconoscimento per aver atteso così tanti anni in condizioni di precarietà lavorativa e psicologica. Invece nemmeno questo, in cambio dell'assunzione saranno costretti a fare le riserve dei loro colleghi di ruolo, a fare i tappabuchi, a vedere limitata la loro libertà di insegnamento nella speranza di essere confermati dal preside e a rinunciare alla loro vera e unica vocazione, l'insegnamento su cattedra. Un disegno di legge del genere non era venuto in mente nemmeno alla Gelmini, che pure vantava fino a oggi il titolo di peggior ministro dell'istruzione della nostra storia. E a noi spiace, sinceramente spiace, per i deputati del PD in Commissione Cultura, ma per lo stesso ministro Giannini, che sono costretti a difendere un piano assunzionale caotico e iniquo non basato sul fabbisogno, perché Renzi deve mettere la sua bandierina sull'esaurimento delle graduatorie d'esaurimento e che cercano, devo dire con scarsi risultati, di trincerarsi dietro lo slogan dell'autonomia per difendere l'accentramento dei poteri nelle mani del preside. Ci spiace vedervi commissariati dal vostro leader e vedervi in affanno nel difendere provvedimenti del tutto che tutto sono, tranne che fondati su quei valori che i vostri elettori vorrebbero vedere rappresentati da voi dentro questi palazzi. I vostri candidati regionali in molte regioni si stanno fintamente dissociando da questo IDL per non perdere voti alle prossime elezioni. E allora anche da voi ci saremmo aspettati più coraggio, almeno su questo tema così cruciale per la società dovevate puntare i piedi per terra e impedire a Renzi di realizzare la sua personale riforma della scuola già voluta e già disegnata da Berlusconi e dal centrodestra. E allora invito i rappresentanti del Partito Democratico a compiere un gesto, almeno uno di rispetto e di dignità. Al Palazzo dei Gruppi Parlamentari, terzo piano, c'è una sala intitolata Enrico Berlinguer. Domattina, in silenzio, rimuovete quella targa. Grazie.